Un ricco programma di concerti e rappresentazioni andrà in scena dall'8 al 25 luglio, suddiviso in due sezioni, dal titolo Musica e Letteratura tra Monti e Lago e Festival Pianistico Internazionale dedicato a Franz Liszt nel bicentenario della nascita. Gli eventi fanno parte di un festival musicale e letterario organizzato e promosso dall'Associazione Culturale Momenti Musicali di Coveglio per la stagione estiva 2011 con il patrocinio della Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus. Proprio nella sede della Fondazione a Varese si è svolta stamattina la presentazione dell'evento che si svolgerà in varie sedi tra l'Alto Lago Maggiore e le valli di Mitrofe all'Alto Varesotto tra cui Nasca, Castelvecana, Arcumeggia, Cuvio e Cassano-Valcuvia con la partecipazione di numerosi importanti musicisti e artisti nazionali e internazionali. La manifestazione ha il duplice obiettivo di proporre buona musica e favorire la conoscenza di particolari luoghi storici tipici dell'Alto Lago Maggiore e della Valcuvia costituita da 20 comuni, un territorio incontaminato e suggestivo ricco di monumenti e impianti architettonici a cui questa manifestazione aggiunge prestigio. Grazie! 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 Grazie!